Terrorizzati e increduli per quanto stava succedendo a casa loro, così sono apparse alcuni degli inquilini che abitano nel casolare che ieri pomeriggio è stato messo sotto sopra dagli inquirenti per trovare nuove tracce di Norbert Fair. Il casolare, che presenta segni di una ristrutturazione recente, è un insieme di appartamenti che in via Fiume Vecchio, nella frazione di Molinella di Mar Morta, ospita diverse famiglie di diverse etnie. In una parte di quel casolare i carabinieri hanno lavorato fino a tardasera anche con l'ausilio dei carabinieri del RIS, indagini importantissime che porterebbero dritto dritto al killer di Budrio e Porto Maggiore. Una parte del casolare è stata fatta sgomberare e anche verso sera non era possibile rientrare, anche per un inquilino che aveva bisogno di rincasare. Non mi hanno fatto entrare, non mi hanno detto di motivo, non so niente ancora. Cioè magari adesso vada a chiedere perché devo andare a casa. Anche una mamma con un bambino piccolo, ospitata da alcuni dirimpettai, visto il freddo di ieri pomeriggio, verso l'ora di cena aveva bisogno di tornare a casa perché suo figlio aveva fame. L'accesso alla sua casa tuttavia era off-limit ed è stato così fino alla fine dei rilievi. Un casolare da cui emerge la sensazione che chi ci abita in quelle case non è stanziale. Un casolare insomma i cui appartamenti vedono una rotazione molto frequente di inquilini. Un luogo dunque ideale anche per trovare un riparo da parte di uno come Norbert Fair. Nessuno in quella casa pare veramente conoscersi. Ci sono tanti, sono da due mesi qua, non conosco più o meno nessuno. E dopo gli appartamenti sono stati setacciati anche i vicini sgomberi, casette adibite a cantine e ripostigli vicino alla campagna che potrebbero aver permesso al fuggitivo di trovare un riparo soprattutto dal maltempo di questi ultimi giorni.